ciao ragazzi modulo 28 scale pentatoniche scala blues chi non ha mai sentito parlare di queste scale nessuno via diciamoci la pentatonica è una scala che viene utilizzata in tutti i generi musicali in tutti i contesti sia in fase di composizione penso alle milioni e milioni di melodie scritte appunto utilizzando questa scala e sia anche soprattutto anche in fase di improvvisazione in tutti i generi ovviamente quindi faccio una premessa la scala pentatonica maggiore e minore anche qui a volte ho trovato un po di confusione ma è molto semplice il discorso è come una scala maggiore con la relativa minore la pentatonica maggiore facciamo di sol è identica alla pentatonica minore della sua relativa quindi in questo caso semplicemente parto da una nota diversa in questo caso parto da la mia tonica sarà mi quindi la mia tonica sarà mi proprio la terza minore a quarta giusta quinta giusta settima minore mentre il sol maggiore è una tonica di sol di conseguenza seconda maggiore terza maggiore detto questo quindi per sentire la differenza tra le due scale mettete un loop ad esempio di un accordo mestolo intenso in sol sol re quindi codos sospeso che mi am merelyång amole disciples e mandarono ma ancora comune volete le due pentatoniche però partendo dalla stessa nota altrimenti ripeto non cambierà gun una j quella di sol maggiore e mi minore. Se invece io faccio un power chord, o chiamo così, di sol quinta, quindi sol e re, e suono la pentatonica maggiore e la pentatonica minore, allora sento la differenza delle due sonorità. Detto questo, restiamo un attimo sulla pentatonica minore di sol, quindi sol e si bemolle, anzi di mi, scusate, mi, sol, mi, sol, la, si, e re. Le mie diteggiature principali sono due, quindi con il dito indice di partenza, oppure col dito medio. più raramente utilizzo partendo dal minore. Quindi se io a questa scala aggiungo una nota, ovvero la quarta aumentata, che in nostro caso è un la diesis o si bemolle, quindi o quinta diminuita, ai fini pratici cambia poco, si crea questo passaggio cromatico e si forma un'altra scala, detta scala blues, tralascia tutta la teoria. Questa nota appunto chiamata blue note, cioè milioni di modi per chiamarla, semplicemente alla mia pentatonica aggiungo questa nota qui, che è la quarta appunto aumentata, o quinta bemolla. Quindi, detto questo, poi vedremo come metterla in pratica, dove, soprattutto, su quali accordi, quali possono essere sostituzioni, eccetera. Andiamo più avanti. Andiamo a vedere come studiare questa scala. Quindi un esercizio che io ho fatto in una lezione qualche settimana fa, più o meno. in molti di voi, non so di voi, o di altri bassisti, mi hanno chiesto di farla lentamente, per capire come l'avevo inventata. Ovviamente non l'ho inventato io questo esercizio, ahimè non ricordo dove l'ho preso, quindi sennò avrei citato il creatore. Ma tanto, quando si fa un esercizio, ragazzi, è impossibile stare a pensare se è già stato inventato o no. Io me l'inverto, se ce l'ho ammette perché qualcuno l'ha già fatto prima di me, mi dispiace, non posso ricordarvi tutto. Come se qualcuno farà i miei, io sarò solo soddisfatto. Quindi, rimaniamo in Mi minore, o quindi Sol maggiore, identica. L'esercizio prevede dei pattern in terzine, che sono esattamente queste. Quindi parto dalla terza maggiore, primo pattern, qui in terzine. Si, la Sol, quindi terza, seconda, prima. Poi mi sposto, vado sulla quinta, e faccio quinta, terza maggiore, seconda. E così via, partendo sempre da una nota successiva della scala, facendo sempre il solito pattern, quindi le due note sotto. Diciamo così, quindi ho fatto molto lentamente e questo. Quando arrivo sulla Si all'ottava sopra, per studiare tutte le possibili noteggiature, posizioni di questa scala, ho fatto questa cosa qui. Quindi ogni pattern, ogni terzina, fatta in due modi diversi. Quindi Si, La Sol, Si, La Sol, Si, La Sol, cambiando posizione. Stessa cosa poi. Una volta arrivato al fondo, avevo messo, se non ricordo male, un pattern discendente di sempre di terzine, però gruppi di 5. Sarebbe questo. Quindi 5 note, tutte a terzine, però 20 collacenti spostati. La velocità un po' più sostenuta mi verrebbe più o meno questo. Ovviamente questo è uno degli esercizi che possiamo fare per sfruttare tutta la tastiera. Il consiglio che vi do è quello, ad esempio, di fare per semitoni, una scala, una pentatonica maggiore e una minore. Ad esempio, un parto in E maggiore, sempre a terzine anche ponendo. Qui vado da G, mi maggiore e scendo con quella minore di Fa, quindi semitono sopra. Risalgo con quella di Fa diesis maggiore, scendo il Sol minore. Oppure parto da Mi minore, che discendente volendo. Salgo con quella maggiore di Fa, invece, su tutta la tastiera posso fare tutti i discendenti, eccetera eccetera. L'altro giochino, con le pentatoniche ci si può divertire, quello di creare altri tipi di parte, come possono essere questi qui in Sol. E li scrivo tutti. E via dicendo. Del fatto dei gruppi di cinque si può trovare un largo utilizzo in gioco, il Pastors. Che, se ci fate caso, anche nel solo di All America Alien Boy, il brand di Yanate. Nel solo fa appunto una frase costruita in tre uniti, in terzine e gruppi di cinque, sulla pentatonica di Mi maggiore, mi sembra. Oppure anche in altri Sol di Sol che poi vi indico. Quindi, per ora, fermiamoci qui. Studiate queste scale in tutte le tonalità, mi raccomando. Oppure fatevi anche un po' chitarristicamente parlando dei box, così li chiamano, mi sembra. Quindi, se riprendo la scala di Sol, la pentatonica maggiore di Sol. Quindi, partendo da tutti i gradi della scala, facendole tutte in verticale, diciamo così. Insomma, create, divertitevi, perché con le pentatoniche non ci si può non divertire. E poi nel prossimo modulo andiamo a mettere in pratica, vediamo come poterli utilizzare, in quali contesti, che colori possiamo ottenere. Avvio. Aollio. Parola.